Oggi tra Crema e Milano sulla Paulese si è verificato un fatto di una gravità assoluta che ha messo a repentaglio la vita di 51 ragazzi e dei loro insegnanti. Io sono assolutamente indignato per quello che è successo e se da un lato devo dire grazie e fare i complimenti alle forze dell'ordine che sono intervenute con la massima determinazione con la massima velocità, devo complimentarmi con questi giovanissimi che hanno saputo mantenere il sangue freddo e con i loro insegnanti che sono stati presenti e hanno saputo anche loro mantenere una situazione sotto controllo credo che veramente la unica considerazione da aggiungere è che questa persona indegna di essere definita in questo modo debba pagare fino in fondo tutte le sue colpe per quello che ha fatto ma anche per quello che avrebbe voluto fare. È una situazione incredibile che evidenzia come purtroppo nel nostro paese si verifichino episodi inaccettabili.